e chiamiamo sul palco i gatti numero 26, 164, 255, 305, 323 ricordati che già il terzo po' c'è anche il palco 3, manca ancora un gatto manca il Maine Coon manca il Maine Coon numero, no, sì il Maine Coon numero, il turco 255 il turco van 255 deve salire sul palco i cinque neutri sono tutti presenti ed ecco che è arrivato anche il nostro testimonial, Mr. Cutlover il protagonista della campagna pubblicitaria della mostra internazionale Feline De Carrara che premierà i vincitori assoluti grazie a tutti abbiamo la classifica finale al quinto posto si è classificato il gatto numero 323 l'orientale al quarto posto il gatto numero 305 il blu di Russia al terzo posto il gatto numero 26 il persiano ora non vi dico chi è secondo e chi è primo ma vi annuncio il numero nonzio Bobis, no vi annuncio il numero del vincitore best of best neutri primo classificato il gatto numero 164 iniziamo le premiazioni dal quinto classificato il numero 323 l'orientale proprietario del 323 eccoli che arrivano quinto classificato best of best neutri facciamo le presentazioni Annalisa Bernazzoli e il gatto come si chiama? si chiama Embrasse moi complimenti il nostro testimonial mister cutlover ti consegne i premi offerti dal comitato organizzatore e dallo sponsor chiamiamo sul palco il quarto classificato il blu di Russia facciamo le presentazioni è troppo bello per essere vero facciamo le presentazioni allora questa bestiaccia si chiama Europa cioè pardon Supreme Premier Kind of Blue no body health e del mio levamento io sono Susanna Pedratti di Milano complimenti Susanna quarto classificato premiamo il terzo classificato il persiano numero 26 medaglia di bronzo il persiano numero 26 lei è Audrey Hepburn dell'allevamento dei Toltechi di Cinzia Trentin complimenti premiamo ora il secondo classificato il Turco Van ci siamo facciamo le presentazioni lei si chiama Amisti Akshami Shik però a casa chiamiamo Pippi oggi è sto compleanno di 4 anni complimenti allora festeggiato nella migliore maniera e ora premiamo il primo classificato il Sacro di Birmania numero 164 sì facciamo le presentazioni io sono Barbara lui è Siro Silgreco delle Ninfe del Lago di Besozzo Varese complimenti Barbara complimenti e ora chiamiamo sul palco i cuccioli numero 19 178 59 293 320 i cuccioli mancano due gatti per il best of best il persiano e manca il balinese eccoli che arrivano si preparino gli adulti non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Bene, vi leggo la classifica Al quinto posto il numero 320 Al quarto posto il numero 293 Al terzo posto il numero 19 Best of best assoluto, primo classificato È il gatto numero 59 Facciamo le presentazioni al pubblico Al quinto posto il numero 320 Complimenti Complimenti Lei è Tosca dell'allevamento Ferisca Pau di Livorno Complimenti Consegniamo i premi offerti dallo sponsor Royal Canine e del comitato organizzatore Al quarto posto il numero 305 Dov'è il numero 305 che si recchi qua? No scusate il 293 Ho letto quello già passato Quarto posto il numero 293 Fotografia di Rito con Mr. Cat Lover E Torbjorn del Sacro e Profano Complimenti Terzo posto per il gatto numero 19 Terzo posto Facciamo le presentazioni Lui è Welcome to Black Diamond Proprietario Franco Ballari Complimenti Ti diamo i premi offerti dal comitato organizzatore Dallo sponsor Royal Canine e dal fotografo Andrea Gilardi Al secondo posto il gatto numero 178 Complimenti a Giuseppe De Pietra Gli diamo i premi offerti dal comitato organizzatore Dallo sponsor Royal Canine e dal fotografo Andrea Gilardi E ora presentiamo il primo classificato Best of best primo classificato Il gatto numero 59 Facciamo le presentazioni al pubblico Allora lui è Pedisconer di Danie che vive a Treviso Allora Polin Corinna Il nostro Mr. Cat Lover ti consegna L'omaggio offerto dal comitato organizzatore e dalla Royal Canine Il premio offerto da Andrea Gilardi Il buono spendibile Poi Nuntio Vobis Gaudium Magnum Questo gatto è il gatto che nelle due giornate ha totalizzato il maggior punteggio Perché best of best ieri Primo Best of best primo oggi Non c'è altro Con tutti i titoli migliori di varietà C'è quindi ha totalizzato il maggior punteggio Quindi si aggiudica Il trofeo cazzo chic Per il gatto che ha totalizzato il maggior punteggio Me lo devi lasciare E il viaggio Che era per il vincitore offerto da Animal Star Complimenti E ora chiamiamo sul palco gli adulti Sono il numero 34 Il numero 200 Il numero 85 Il numero 257 E il numero 330 Laura Burani A te la scelta A te la scelta Ate la scelta A te la scelta A te la scelta A te la scelta Attenzione, Rosi va in segreteria per cui chi vuole ritirare i giudizi e non ha best da mettere timbri può andare a ritirare i giudizi in segreteria da Rosi Grazie a tutti 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 Premiamo ora il best of best primo classificato, il gatto numero 34, vincitore assoluto di oggi Facciamo le presentazioni al pubblico Lui è Italian Blue Diamond Socrates e io sono Foggi Franca e vengo da Prato Complimenti Franca sei emozionatissima lo vedo, ti consegniamo i premi offerti dal comitato organizzatore, la coccarda della Fife, la medaglia d'oro dell'Anfi e il premio per il best of best offerto da Andrea Gilardi quando vuoi puoi fare un servizio fotografico da lui Grazie a tutti Vorrei tutti tutti gli steward sul palco, fatemi un grosso applauso agli steward, i lavoratori veri delle mostre Salite salite, salite, su, 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 loro sono l'anima, l'anima dei giudizi, l'anima del best in show, quelli che lavorano dietro le quinte ma nemmeno troppo Li presentiamo Sono Sayuri di Roma, Rossella da Padova Marco da Brescia Claudio da Firenze Andrea da Genova Fabrizio da Tarzana Jürg della Svizzera Stefania da Livorno E il nostro capo steward inimitabile, inconfondibile, intramontabile, introvabile, Nanni di Batte Grazie a tutti Ora qualche piccola comunicazione di servizio